ciao a tutti amici di sbam io sono cook e io sono contrario a questo video perché dei dischetti del sto cazzo di fucili non me ne sbatte niente no dobbiamo essere dobbiamo essere inclusivi max libero libero ok ok ragazzi allora stasera facciamo di fatto la seconda parte del video sui fucili svedesi quando abbiamo fatto il video del gustav ci siamo dimenticati di fare la cosa più importante ovvero più anzi più curiosa dei fucili svedesi che ce l'hanno solo loro ovvero lo psicodisco allora lo psicodisco è quel dischettino che indica le condizioni che indica tante cose presente sul calcio di tutti i fucili svedesi dal m94 fino alla g42 cosa c'è scritto in questo disco cosa cosa che informazioni possiamo trovare allora lo psicodisco diciamo è questa qua quello che vedete su tutte le armi svedesi è la seconda variante dello psicodisco perché nella prima variante era semplicemente come quello dei primi che erano 98 ovvero semplicemente il disco di reparto c'era il numero dell'arma il numero di serie di rastrelliera e tutto c'erano tutte quelle informazioni lì e invece quando questo è stato messo diciamo la versione definitiva che trovate è stato messo a partire dal mille novetta gli anni dagli anni 40 direi cosa vediamo nel disco allora guarda max cosa ci leggi qua tu torped str a cazzo c'è anche del bresciano allora vediamo qua intanto la cosa più importante ovvero iniziamo a leggere un 6 e 51 numero di telefono allora come si legge questa cosa intanto questa cosa qua cos'è è il diametro dei pieni della rigatura quindi diciamo quello rilevabile col tampone e vediamo basta max e come si ma stai fermo ti chiavi le dita godo tantissimo e facciamo e facciamo un botto di visualizzazioni sono io l'armiere faccia di cazzo ti chiavi le dita facciamo un botto di visualizzazioni in fuori figlio di troia così non funziona mai un cazzo qua vai no volevo vedere questo io vai continua allora queste due serie di numeri 6 e 51 e 6 e 46 quindi una più stretta e una più larga come si leggono allora partendo da 6 e 46 vediamo che c'è il triangolino sopra il numero in questo caso c'è il triangolino sopra il 2 di 6 e 51 come si legge si legge che questa questa canna ha un diametro tra i vuoti del partendo da 6 e 51 sul 2 quindi 6,52 millimetri in tra i tra i vuoti tra i scusa tra i pieni di rigatura quindi con l'attrezzino infilandolo dentro alla volata legge leggeremo 6 e 52 se fosse il triangolo questo invece sul vediamo sul jungman abbiamo il triangolino sullo 0 quindi è 6,50 è l'ultimo numero della serie del 6 e 46 poi passa sarebbe passato a 6 e 51 quindi questo qua è sul triangolino e sullo 0 nel giro del 6 e 46 e quindi diventerebbe il 6 e 50 perché passerebbe da 49 al 6,49 poi passa al 6 e 50 stai fermo max mi stai facendo di nervosire questa arma è lercia si ma è lercia dillo alla sera è roba sua allora ora che hai tutte le mani lerce cosa fai cosa fai adesso no che schifo allora poi dopo passiamo al secondo al secondo spicchio 1 2 3 questo qua è lo stato della canna allora se non ci fosse triangolino con senza in assenza di triangolino la canna sarebbe nuova col triangolino sull'uno vediamo che la canna ha un minimo di consumazione di pitting se fosse sul 2 la canna avrebbe consumazione diciamo tra le righe e sul 3 la canna sarebbe da buttare però max adesso ti chiedo io non lo so perché c'è sempre da prendere con le molle sti affari cosa c'è scritto la è cosa c'è scritto che questa canna sarebbe da buttare in teoria comunque sarebbe in condizioni pessime adesso ti faccio vedere controlla la canna parla io non ci vedo un cazzo perché è lercia come tutte le tue cazzo di armi comunque no io la rigatura la vedo quindi mi sa che è buona è nuova con la canna ma i miei standard è nuova questa è una canna non è cromata come un bellissimo norinco però è buona dai io appunto infatti questo su questo non lo so non l'ho mai capita sinceramente ho tutte le canne svedesi che ho visto io non ho mai visto una canna svedese in condizioni brutte quindi per quanto per quanto diciamo queste sono informazioni che vengo che sono state messe nell'ultima riarsenalizzazione di quest'arma quindi orientativamente sono state messe negli anni 40 però è un triangolo c'è tre punti come fai a dire che punta il tre non l'uno perché sopra che è il gioco della bottiglia no oggettivamente questa canna sul tre sarebbe in condizioni quasi da buttare nel cesso però è a specchio allora esattamente questa qua sarebbe sul 2 quindi messa meglio come cazzo sia vero che è un gracco parere dai è leggermente no questa è pulita differenza di quella questa tra l'altro è leggermente più bassa ma siccome perché ha sparato tantissimo nella sua carriera del tiratore però si vede che è leggermente messa meglio di poco c'è una differenza proprio impercettibile mi stai mi stai mi stai mi stai oh se devo dire se c'è scritto devo dirlo mi portate un mi portate uno scovolo mi portate 50 euro mi portate uno scovolo ok abbiamo trovato il porta pezzuola giusto possiamo pulire la canna che schifo che schifo beh allora dimmi adesso se sta canna qua ti sembra una canna da buttare nel cesso guarda pulisci anche quest'altra allora finché ci sei ok adesso questa sembra quasi pulita cazzo oh è nuova e che si è messa piuttosto bene cioè piuttosto piuttosto una sega è nuova se non è cromato per me non è nuovo ma cos'è cromato il tuo culo è cromato allora qua ecco buttano occhio su questa è messa meglio questa qua non sono d'accordo a me sembra leggermente ma proprio impercettibilmente messa meglio ma non economicamente messa meglio ok e su questo ok abbiamo visto lo stato della canna è una fusi ma come tutto quello su questo fucile poi guardiamo qua torped overslug e questo qua praticamente è riferito all'uso che iniziato iniziò a esserci nel 1941 delle palle torped che sono le spitzer e questo fucile in origine è sempre stato camerato per le palle round nose questo dà l'indicazione dove dove presente di come correggere in elevazione la mira per compensare la differenza di punto diciamo di caduta della palla spitzer rispetto alla palla round nose ed si misura in streche che è una misura svedese del tipo il moa cioè dice quanto mirare più in basso più in alto in base al allo spread della della munizione e qua non c'è scritto niente qua c'è scritto qualcosa vediamo no non c'è scritto niente neanche qua quindi si presume che non ci fosse segnato niente ma poi allora parliamoci chiaro quanto sono attendibili questi dati questi sono ripetiamo questi sono dati che sono stati dati che sono stati affissi sull'arma al momento della riarsenalizzazione quindi si parla degli anni 50 60 e quindi da allora quanta gente ci è andata attorno soprattutto sui sui m96 e quanta cioè quanto hanno sparato quindi voglio dire molta gente fa molto affidamento al momento dell'acquisto su questi su questi dischi a il mio è nuovo quando questi dischi si comprano ai mercatini o su internet e blank quindi non non segnati quindi sia richiesta li stampo anche io quindi ragazzi non per quanto sia una una cosa interessante sia uno come si dice penso che nessun altro fucile militare abbia una cosa del genere una una feature del genere con questi con questi dati con questi con questi così qua diciamo sì rimane una curiosità ma non fateci affidamento quando dovete comprare un'arma insomma non compro non scegliete un'arma piuttosto che un'altra solo perché sul disco sullo psico disco c'è scritto qualcosa max quanto 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 ti piace questa questa cosa di psicodischi cazzo se era del diametro giusto potevano toglierci sta fregnata e metterci una moneta da 2 euro e tu farresti una moneta 2 euro no ce l'ha in collo mica la furro va bene ragazzi da cook e da quello che non voleva fare il video è tutto ciao ciao